Dopo il pareggio all'ultimo respiro subito nella sfida contro il Sansevero, una vittoria per il Morale e per la classifica in casa Corato. I neroverdi nel recupero della nona giornata mandano al tappeto il Manfredonia con il risultato di 2-1 e riducono così lo svantaggio dal Barletta, ora a meno 6. Domenica però si torna subito in campo con la prima giornata di ritorno del girone A di eccellenza. Mantenuta l'imbattibilità fino al giro di Boa con 12 vittorie e un solo pareggio, quello con il Manfredonia nell'ultimo turno, il Barletta si prepara alla trasferta di San Marco. Una gara che sulla carta non dovrebbe destare particolari preoccupazioni anche se guai a sottovalutare l'avversario. Le insidie sono sempre dietro l'angolo e la gara del San Sabino deve servire da monito. Il Corato invece proverà a puntare sul fattore continuità contro il Real City. I neroverdi non possono scansarsi dalla frenesia di un calendario quanto mai serrato e dovranno dare il tutto per tutto per provare quantomeno a tenere il passo di un Barletta che sembra già in fuga. Dietro alle prime due della classe intanto, il città di Mola si prepara ad ospitare l'Unione Calcio Biceglie, mentre ostacolo Orta Nova per il San Severo. In chiave salvezza l'obiettivo in casa Canosa è quello di confermare l'ottimo periodo di forma contro l'ostico atletico Vieste. Chiuderanno i giochi Borgo Rosso Molfetta Trinitapoli e Vigortrani Manfredonia. Nel girone B, gerarchie già decise o quasi. Gli 11 punti di vantaggio del Martina possono essere già una sentenza per l'Ugento. All'orizzonte, nel frattempo, c'è la trasferta di Ostuni per gli uomini di Pizzulli. All'orizzonte, nel frattempo, c'è la trasferta di Ostuni per gli uomini di Pizzulli.